Si sono conosciuti grazie ad internet ed hanno deciso di girare un film assieme, una pellicola amatoriale a costo zero ambientata nel veneziano a fusina, ispirata ad un videogioco. Sentiamo Stefania Bolzanna. Al secondo via uscite anche voi. 3, 2, 1, via! Via! Il movie è un film basato su un'opera di un altro autore, è un film fatto non da fanatici ma da fan. E loro fan lo sono davvero di un videogioco di spionaggio che ha fatto storia, Metal Gear Solid. Il soggetto di ambientazione militare fantascientifica ha dato lo spunto al film. Filantropi il titolo, Solid Snake, un ex agente americano che tenta di fermare le armi nucleari delle superpotenze, il protagonista. Al film, che sarà online a maggio, si sono interessate alcune riviste di settore, una anche d'oltremanica. Portato avanti con caparbietà da giovani che si sono conosciuti grazie a internet, Filantropi è stato girato tutto in Veneto. Una fabbrica dismessa della zona industriale di Fusina è il set dell'ultima scena. Il totale dei collaboratori finora è stato di più di un centinaio sicuramente. Finanziamenti? Non se ne parla per questo. Per il futuro vedremo. Grazie a tutti.